Siamo anche... ...che ne va? ...che ne va? ...che ne va? Sono stabilitari, li sono salvati. Non vai in giù. Andiamo a togliere la cosa laggiù. Aspetta, aspetta... Metti... ...metti... ...metti questo solo. ...metti che... ...metti la versione. La bimba, la bimba, fai il buco o no. Giovanile, giovanile, girala un po' Guarda la classe, la classe, la classe non è acqua Dov'è Daniele? Dov'è Daniele? Mi sono messo un po' un po' Ah così proprio? Eh beh L'assessore, l'assessore? Penso a stancarsi col polso flessibile Ma devi stare fioracciando, dai prendi pennella Dai Bravo così Bravo bravissimo 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 Che c'è? Fai qualche ruolo Tieni un attimo Andiamo avanti di qua, la facciamo tutti Facciamo questo Noi lo supponiamo che venga coperto da corto lungo Sì, però prima dagli una pulita E beh, ho una statura più alta della mia Tu che fai, sei youtuber? Comunque se volete partecipare E lui ha un'organizzazione Segui, lo manoseghi Grazie a tutti Grazie a tutti